Hanno cercato di rubare due auto in via Trania a Barletta, ma a seguito di una segnalazione la squadra volante del commissariato è intervenuta immediatamente. Giunti sul posto hanno notato due persone a bordo di una Volvo V40 e una Skoda Octavia pronti ad essere sottratte ai legittimi proprietari. Ma appena si sono accorti degli agenti, l'autista della Volvo ha fatto marcia indietro impattando frontalmente la volante ed è scappato a piedi assieme all'altro conducente. Hanno raggiunto due complici a bordo di una Ford Mondeo, parcheggiatano lontana di lì e si sono date alla fuga. Nonostante il precedente impatto, gli agenti li hanno inseguiti rischiando nuovamente di essere speronati. I quattro a bordo della Mondeo hanno imboccato la strada statale 16 compiendo pericolose manovre e mettendo a rischio l'incolumità di altri autisti pur di riuscire a scappare. In questi momenti concitati sono arrivate in ausilio anche altre pattuglie dei commissariati limitrofi del reparto prevenzione crimine di Bari. I pressi di uno svincolo in località Boccadoro e i malviventi hanno abbandonato l'auto e hanno tentato di fuggire a piedi. Due sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre gli altri due sono stati bloccati nonostante il tentativo di nascondersi in un casolare abbandonato. Sulla Mondeo era stata applicata una targa risultata proveniente da un precedente furto denunciato a Corato. All'interno dell'auto erano custoditi attrezzi a telo scasso, ganci, corde da traino e centraline codificate per autovetture di varie marche. In manette per furto aggravato, ricettazione, detenzione di arnesi, danneggiamento aggravato di un'auto in servizio della polizia e resistenza pubblico ufficiale sono finiti il 32enne Nicola Sgaramella e il 38enne Felice Lotti. Sono in corso accertamenti per identificare gli altri due complici.